Matteo, allora, tre promozioni su tre tentativi, come tornare in Serie A di nuovo con il Verona da protagonista? Bellissimo, ieri veramente è stata, come ha detto anche il mister, una serata che difficilmente dimenticheremo perché è stato tutto perfetto, la rimonta, la città, il sostegno che ci ha dato, veramente era da brividi già soltanto il sopralluogo in campo, perciò è veramente stata un'emozione, cioè non è stata paragonabile alle altre. Sei pronto a dare tutto per restare in Serie A? Assolutamente sì, sarà difficile come tutti gli anni, però sicuramente dovremmo fare qualcosa in più rispetto a due anni fa o l'anno scorso per cercare di rimanere in Serie A. Cosa vogliono dire queste migliaia di persone che a 24 ore di distanza tornano nel luogo della festa solo per voi, solo per abbracciarvi? Ah, è bellissimo, la piazza all'ultimo mese è stata fantastica, ci ha dato quella forza per ripartire comunque in un momento in cui eravamo in difficoltà, dobbiamo solo dirgli che grazie perché sono stati veramente fantastici. Sei un po' veronese anche tu ormai? Ah, ormai sono veronese.